Questa finanziaria è un prodotto tipico del governo Renzi, ovvero il governo Gentiloni. Le illusioni che sono state date alla gente sono state molto grandi, ma le delusioni sono molto molto forti. Abbiamo trovato nel bonus bebè una conferma, una conferma di quanto in effetti venga detto e poi non fatto. Vederlo ridotto da 80-40 euro significa veramente dare uno schiaffo alla nostra gente, soprattutto ai più giovani, in un momento in cui le famiglie invece hanno bisogno di essere sostenute. E non abbiamo trovato neanche quei provvedimenti seri che avrebbero dovuto rimettere in moto l'economia nelle zone terremotate. Abbiamo avuto circostanze nelle quali le telecamere sono state deviate, non sono state mandate a visitare le zone terremotate, ma quelle fintamente ricostruite. Ora occorre invece un'operazione di certezza, dare la certezza agli italiani che noi difenderemo i loro diritti e abbiamo voglia di andare al governo perché le risposte debbono essere date nella massima serietà. È ora di iniziare a investire, occorrono investimenti seri per creare lavoro. Troppo si parla di finanza, troppo si parla di banche e troppo poco di lavoro. Ma se dobbiamo parlare di banche diciamo anche che in questa finanziaria l'altra grande delusione è lo schiaffo morale, dato e concreto a coloro che sono rimasti impigliati nei grandi scandali di banca che a fronte di 40 miliardi di perdite si trovano con poche decine di euro a disposizione. In totale sono 60 milioni, 50 milioni a disposizione per i risarcimenti e per di più con procedure burocratiche difficilissime da soddisfare. Occorre una finanziaria invece fatta, come abbiamo detto, di certezze. Una finanziaria che desse alla gente la sicurezza sul futuro. Così non è stato, la cambieremo noi.